Musica Serie D, il Gubbio verso Viareggio con i nuovi Bartoccini, De Grassi, Crocetti e Zuppardo Tutti in campo dal primo minuto, il DS Rossoblu Pannacci spiega ai nostri microfoni le mosse di mercato Il Città di Foligno ufficializza il DS Rossoblu Dagliel Balistreri, già in campo nel derby di Spoleto Domenica alle 14.30 su RGM torna diretta a Sporta, alle 20.30 su TRG c'è fuorigioco Buonasera, ben ritrovati al TG Sport, seduta pomeridiana per il Gubbio atteso Domenica a Viareggio per l'ultima partita del girone d'andata del girone E di Serie D Oltre che del 2015 Tutti i nuovi acquisti a disposizione per Mr. Maggi, eccezione fatta per l'infortunato Calombo Destinata a rientrare nel 2016 al pari di Petti, mentre Croce è squalificato Romano resta in forte dubbio e dal massimo andrà in panchina Da ciò che si è visto, Maggi potrebbe cambiare modulo passando ad un 4-4-2 spiccatamento offensivo Davanti a Volpe, difesa con Bartocini a destra, Marini-Schiaroli coppia centrale e Degrassi a sinistra A centrocampo in mezzo toccherà Barbacci assieme ad uno tra Tibolla o Cuccia Mentre sulle fasce aggiranno Ferretti a destra e Ferri Marini favorito su Sciamanna nella corse opposta In attacco spazio al tandem nuovo di Zecca formato da Zuppard e Crocetti con Bortolussi valida alternativa Ma sentiamo al microfono il DS Giuseppe Pannacci Un dubbio che ha cambiato tantissimo, ma ha cambiato forse anche in meglio Forse un chiaro segnale anche da parte della società di voler provare fino alla fine a vincere questo campionato Ma questo è il messaggio che era stato trasmesso sin dall'inizio nonostante siamo partiti tardi Quindi noi sapevamo che questo campionato deve essere un campionato che il dubbio deve farlo da protagonista Per far questo ci siamo attrezzati sin dall'inizio Poi abbiamo visto che stavano facendo sicuramente alcune situazioni dovevano essere in qualche maniera Anche dietro indirizzi tecnici riviste Quindi ci siamo adoperati già per tempo per individuare quelle che potevano essere delle figure Da inserire all'interno di questo gruppo già consolidato E quindi abbiamo fatto un po' di cambiamenti Diciamo così un po' di cambiamenti anche se parecchi critici dicono tanti cambiamenti No, cambiamenti giusti, necessari per dare a questa squadra sicuramente più solidità E per poter correggere Poi sarà il campo che dirà se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male Crocetti e Zuppardo su tutti sono giocatori che basta guardare il curriculum Danno molte garanzie Forse Zuppardo e Giuseppe è stata la trattativa più impegnativa di questo mercato di riparazione Forse per chi l'aveva seguita un po' nelle ombre Per chi in qualche maniera negli ultimi giorni ha voluto creare qualche problematica Perché poi la trattativa di Liborio è partita già da 30 giorni fa Col quale mi sono confidato con un suo vecchio direttore sportivo che ci aveva avuto Lo dico con molta tranquillità Luca Quarta che mi aveva fatto mettere in contatto con lui Però le situazioni sembravano che potessero in qualche maniera avere qualche piccolo problematica Perché comunque portare via Zuppardo da Poggio Bonzi non è stato facile C'è da ammirare quello che ha fatto Liborio perché ha voluto con tutte le sue forze venire a Gubbio Quindi speriamo che questo connubio che si è creato in fase offensiva Possa dare quei frutti necessari che sono importanti per il cammino di questo campionato Fermo restando che nelle ultime ore sicuramente qualche piccolo problema era venuto fuori Poi fortunatamente è stato risolto Dicevamo anche in apertura che il mercato non è ancora concluso Lo ricordiamo, mancano ancora un difensore e un secondo portiere Ovviamente ci sarà una conferma anche dei nomi che sono arrivati Si parla di Petrachi, ex Monza Ma anche di Niccolini che è in uscita dal Padova Confermi questo voce oppure ci sono anche delle novità riguardo? No, c'erano, c'erano sicuramente Petrachi tramite Torino si era in qualche maniera affondato Il colpo su quello che poteva essere una soluzione in alternativa a Volpe come 97 Poi le situazioni si sono un pochino traccheggiate Quindi non è più possibile perché ormai lui è vincolato con il Monza Meno che all'ultimo minuto non hanno fatto un trasferimento Quindi sicuramente Petrachi non arriverà Niccolini, teniamo i diti incrociati Penso che sia un discorso difficile ma noi ci muoviamo solo su questo Quindi ci sono altre situazioni Sicuramente situazioni importanti Ci possono essere dei ritorni Quindi stiamo lavorando, lavoriamo in segreto In silenzio soprattutto e col massimo rispetto per tutti Giuseppe Pannacci non si deve togliere nessun sassolino e scarpe Perché quello che faccio lo faccio dai Gubino Con vera passione, vero cuore Per questi colori e soprattutto per questa città E proprio due ex Gubbio freschi di svincolo vanno a rafforzare il città di Foligno Si tratta del difensore Rocco Daiello e dell'attaccante Pietro Balistreri Già disponibili per l'impegno dei falchetti di domenica a Spoleto Preso anche il classe 96 Labate Anche egli con un passato nelle giovanili ogubine Esterno di centrocampo proveniente dal Rapallo Bogliasco Non fanno più parte della rosa Folignata Invece il centrocampista Esposito e l'attaccante Luparini Per il Gualdo Casa Castalda invece c'è un altro ex Rosso Blu Ovvero la mezzala Filippo Fondi I gualdesi saranno di scena sul campo della Pianese Il città di Castello anticipa domani con la San Giovannese alle 15 al Bernicchi Senza gli squalificati Marconi e Missaglia Mentre il San Sepolcro sarà di scena a domicilio della capolista Monte Catini E ricordiamo che domenica torna a Diretta Sport in onda alle 14.30 su RGM Sul canale 604 del Digitale Terrestre Con la diretta delle formazioni Umbre di Serie D La sera poi ci sarà ovviamente l'appuntamento alle 20.30 con Fuori Gioco Parleremo in Diretta Sport anche di eccellenza Il campo principale comunque della giornata di domenica sarà lo stadio dei Pini di Viareggio Dove è atteso il guppio dei tanti volti nuovi guidato da Mister Maggi Serie B in campo al Curi alle ore 21 Il Perugia al cospetto del Livorno per l'anticipo della diciannovesima giornata di campionato di Serie B Mister Bisoli è costretto a rinunciare agli infortunati Fabigno, Salifu e Alassan La buona notizia sta nella convocazione di Spinazzola recuperati in Estremis insieme a Rizzo e Zapata Il Grifo è chiamato a fare risultato al fine di riagganciare la zona playoff E cominciare nel modo migliore un trittico ravvicinato di partite Visto che il 23 i Biancorossi sfideranno in trasferta la Pro Vercelli E il 27 sfideranno il Vicenza nell'ultima gara del 2015 Si gioca anche la prima giornata di ritorni in eccellenza La capolista Trestina sfida a domicilio il Petrignano Ma il match clou di giornata è il duello tra l'inseguitrice Villa Biagio e Castel del Piano Separate da due soli punti in classifica L'altra inseguitrice Subasio attende la Narnese Mentre per il Ventinella c'è la trasferta sul campo della Ponte Vecchio Del neotecnico Mattoni Il Sanzisto sfida il Todi Esordio a Bastia per il nuovo allenatore del Cannara Luzzi L'Angelana cerca punti a Massamartana Mentre è sfida salvezza tra Trasimeno e Torgiano Riparte il girone di ritorno anche del girone A di promozione Con il Fontanelle Branca ha deciso a mantenere il primato in classifica Che vede gli Ogubini a più due sul Ponte Valleceppi Atteso all'Erchi I bianco-blu riceveranno domenica al Santa Barbara la Pievese Anche per riscattare la sconfitta 2-0 subita all'andata A guidare l'attacco sarà ancora Marco Gaggiotti Mentre è a disposizione anche il difensore classe 98 Pappafava Arrivato negli ultimi giorni dalle giovanieri del Gubbio Calcio In A1 femminile di basket la pallacanestro femminile Umbertide Cerca riscatto domani sera sul campo di Battipaia Dopo la sconfitta interna con Sesto San Giovanni In Cisilver è maschile in campo domani il Gualdo a Rieti ed il Gubbio Che ospita domani sera la polivalente Assisi Domenica invece Umbertide cerca il Bezza d'Orvieto Con Foligno impegnato a Todi Nella Superlega di Volley dopo il passaggio del turno in Coppa Cev La Sir Perugia di Coach Kovac proverà domenica a far risultato a Verona Squadra che poi i perugini affronteranno nuovamente martedì in Coppa Italia In B2 maschile trasferta marchigiana da Pignano per Argerardi Carto edit città di Castello Mentre in B1 femminile la TUM Perugia affronta al pale evangelisti Le modenesi di Montale Rangone con San Giustino Che sarà invece di scena a Bologna Infine in B2 la New Font Morigubbio proverà a chiudere l'anno Con il sorriso sul campo delle fermane di Torre San Patrizio Era l'ultima notizia per questo appuntamento con il TG Sport Vi lasciamo ai programmi di TRG Augurando a voi tutti un buon weekend Grazie a tutti